buona giornata posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni oscar wilde questa frase è famosissima strausata stradetta però è una cosa fondamentale posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni questo non vuol dire che ti devi far tentare tutte le volte dalle cose anzi tutt'altro un po di disciplina è importante ma un po un po non sempre quindi ogni tanto lasciati andare sì te lo meriti ti do questo insight questo tips chiamano come cavolo di fare te lo meriti perché ti stai facendo un mazzo così stai facendo del tuo meglio per raggiungere tutti i tuoi obiettivi nella tua vita quindi ti prego sì te lo meriti prenditi un po di tempo perché lasciati andare divertiti fai quello che ti suggerisce il tuo cuore quindi non resistere a tutte le tentazioni altrimenti che vita sarebbe sarebbe una vita bruttissima e a noi invece ci piace la vita bella felice in pace quindi oggi cerca i tuoi momenti di strappo alle regole di cedimento alle tentazioni di godere la vita per godere la vita per godere la vita daniele paci per felicità e pace om shanti 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 buona giornata ciao goditi la vita